aspetta che arriva stefano ma che cazzo siete solo a fare lì c'è una festa non ho capito è mica la tua questa qui ai 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 ci affattelo cos'è che non fa sergio? te silenzio usa la tua che quella lì l'ha rotti bravo seconda seconda la fai bene? noi cazzo noi c'è andiamo ahahahahah ahahah bella con più bella vai vai buona apri non va non va come non va va ve lo diciamo robertino ma che non va eh che marcia sei che marcia sei terza seconda devi venire su prova prova seconda vieni la pesata bene dietro dopo andiamo a casa eh terza non vieni su di lì perchè non ha trazione dopo eh non l'hai dato te qua eh non l'hai dato tu più eh si è arrivato fino a lì è chiuso dopo eh arrangiatì digli arrangiatì guardalo guardalo bene che è Stefano vado adesso vado adesso vado adesso vado adesso